Giornate febbrili e convulse, quelle per dirigenti e tecnici provinciali e per il dirigente scolastico del Nolfi. Anche stamattina giostra di sopraluoghi e verifiche nelle sedi individuate per ospitare le classi sfollate degli alunni che erano nell'ex Carducci per poter iniziare l'anno scolastico al 30 settembre prossimo. Con particolare pensiero anche per gli alunni che sono in odore di diploma per i quali si aggiunge un ulteriore fattore di stress e di distrazione per questo ultimo e decisivo anno. Dopo l'incontro di ieri in provincia con l'individuazione per fano degli istituti ospiti, a fine della mattinata di oggi un provato preside Samuele Giombi scrive una lettera alle famiglie e dai genitori che stanno vivendo questa condizione assicurandoli che stiamo cercando di far fronte nel miglior modo possibile alla situazione difficile che si è determinata scrive il dirigente in modo per noi del tutto imprevisto e improvviso nell'imminenza dell'inizio programmato delle lezioni con la chiusura degli edifici scolastici disposta dalla provincia e con le conseguenti ordinanze del comune di Fano che rinviano l'inizio delle lezioni al 39 2019. Sono due i livelli su cui si sta operando continua il comunicato da una parte predisponendo un piano di ripartizione delle classi nelle sedi idonee istituto nolfi di via tommassoni 2 istituto olivetti istituto gandilio e palazzo marcolini considerando vari criteri di ripartizione ovvero organizzazione didattica interna degli indirizzi problematiche degli studenti con disabilità esigenze relative all'età degli studenti dall'altra parte per offrire comunque a tutti qualche opportunità formativa in questo periodo di attesa la scuola sempre nel rispetto delle ordinanze comunali dice il dirigente sta organizzando in altri locali lezioni destinate agli studenti del quinto anno è una serie di attività didattico formative alternative per gli altri studenti dunque il complesso paggio si sta ordinando sempre più e comunque la scuola informa che man mano che questi aspetti verranno resi definitivi tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati nel sito della scuola o comunicati via mail alle famiglie